Buona domenica a tutti, adesso facciamo un riepilogo generale di tutti i pagamenti che riprenderanno a partire da domani lunedì 22 aprile e di tutti quelli che arriveranno fino alla fine del mese di aprile. Partiamo subito con i pagamenti della disoccupazione naspi, come già detto ripartiranno da domani 22 aprile ed andranno avanti per tutto il mese di aprile, quindi fino a fine aprile continueranno con i pagamenti della disoccupazione della naspi. Lo stesso vale per il bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro, ricordando alle persone che questo bonus spetta in busta paga e sulla naspi solo a coloro che nell'anno precedente hanno avuto un reddito che va dagli 8.174 euro fino a 15.000 euro. Sempre da domani lunedì 22 aprile ripartiranno i pagamenti per l'assegno unico di aprile e come già detto ci sono date che vanno fino al 26 di aprile, ma non si esclude da parte dell'istituto INPS un'ulteriore proroga per questi pagamenti. Restando in tema di pagamenti, sempre domani ripartiranno ancora pagamenti per il bonus SFL da 350 euro a tutte quelle domande che INPS ha iniziato a sbloccare già dalla data dell'11 aprile. Arriviamo tra il 23 e il 24 di aprile perché dovrebbero iniziare le lavorazioni per le ricariche dell'assegno di inclusione ADI. Proprio per l'assegno di inclusione ADI, come da calendario INPS i pagamenti ufficiali sono previsti a partire dal 26 aprile, ma non si esclude da parte dell'istituto INPS un'anticipazione in virtù del fatto che il 25 è festivo. Andiamo avanti e parliamo per quanto riguarda il bonus asilonido. Come già detto da 4-5 giorni, INPS dopo aver annunciato che c'era un problema sull'intero territorio nazionale ha iniziato a lavorare qualche domanda e non si esclude che per la prossima settimana fino a fine mese di aprile potrebbero arrivare anche i pagamenti. Andiamo avanti, parliamo di pensioni. Come già detto avranno inizio a partire dal 2 maggio perché è il primo giorno utile bancabile. Per tutti coloro correntisti bancari e postali la somma sarà disponibile dal 2 di maggio, mentre per coloro che le ritirano contanti ci sarà il solito calendario in ordine alfabetico. Infatti si parte dal 2 maggio a pagare dalla lettera A alla lettera C, poi il 3 maggio si pagherà dalla lettera D alla lettera K. Il 4 maggio è solo di mattina perché è sabato, pagheranno dalla lettera L alla lettera P. Infine si arriva lunedì 6 maggio con gli ultimi pagamenti dalla lettera Q alla lettera Z. Infine con la carta acquisti o social card da 80 euro bimestrali sono attesi pagamenti da 80 euro per il bimestre maggio e giugno per le prime due settimane di maggio. Infine non per importanza si attendono i decreti attuativi per quanto riguarda la carta dedicata a te da 382,50 euro come già detto nel precedente video messaggio promessi dal ministro Lollobrigida per la fine del mese di aprile.